Università d'Annunzio Chieti-Pescara, l'edizione 2023 della Notte Europea dei Ricercatori. Ieri l'importante prologo alla Stella Maris di Montesilvano, oggi grande folla, una notte di festa con persone di tutte le età, al campus dell'Università d'Annunzio di Chieti. Allora, ci colleghiamo subito con la nostra Marina Moretti. Buonasera Marina. Buonasera a te Massimo, buonasera. Come si può vedere alle mie spalle, come sicuramente documenteranno le immagini di Diego Martelli, qui è davvero una giornata di festa, ma di festa anche con tantissima gente. Devo dire persone di tutte le età, dai bambini che si stanno divertendo un mondo, ai più grandi cieli a quelli che si iscriveranno all'Università d'Annunzio Chieti-Pescara. Sono qui con il magnifico rettore Liborio Stupia, che è sicuramente soddisfatto. Ma la prima domanda che le faccio è questa. Lei nel discorso del taglio del nastro ha detto che la cultura è sorriso, la cultura è divertimento. Ed è forse il segreto anche di questa giornata, cioè far arrivare all'istruzione e al sapere attraverso il coinvolgimento. Assolutamente sì. Infatti sono felicissimo non solo per la quantità delle persone che ci sono, ma per la loro gioiosità. e abbiamo trasmesso un grande messaggio. L'Università non è un posto noioso, l'Università in realtà è un posto dove ci si diverte e imparare può essere divertente, come pure è molto divertente insegnare. Se andiamo avanti in questa direzione, e ricordandoci che l'Italia purtroppo ha il numero di laureati più basso d'Europa, forse riusciamo a invertire questa tendenza. Sì, io devo dire che ho visto con i miei occhi davvero la folla di fronte ad ogni tipo di attività. Ci sono gazebo informativi, ci sono anche delle attività pratiche, ludiche, se vogliamo, anche per i giovani, ma ci sono tanti giovani interessati. Lei dice che non siamo in una buona posizione come laureati, gli aspiranti a quanto pare però ce ne sono davvero tanti. Tra l'altro ci sarà fra poco anche l'incontro con il fisico Schettini, che è uno che è riuscito a coinvolgere con una materia così complessa come la fisica tanti giovani, anche utilizzando i canali moderni. Ecco, questa cosa dei canali moderni voi la state anche seguendo in particolare? Stiamo lavorando moltissimo su diventare un Ateneo molto social, imparare le vie di comunicazione che usano i giovani, imparare a comunicare con loro utilizzando questi strumenti, quindi mettersi in sintonia e soprattutto trasmettere informazioni utili, che è un altro elemento importante per combattere un fenomeno negativo dei nostri giorni, che sono le fake news in campo scientifico. Il tema di quest'anno, della Notte dei ricercatori, è la Notte dei ricercatori, è un mondo, una salute, tante culture, anzi mille culture. Insomma, questo è già un importante messaggio, il mondo è uno, la salute è la stessa per tutti, però abbiamo modi diversi, ma possiamo stare insieme. Esattamente, il concetto è che questo mondo è unico, abitato da persone diverse, con dietinie diverse, con religioni diverse, con culture diverse, non si devono combattere perché il pensiero unico è devastante, ha fatto 50 milioni di morti lo scorso secolo, il famoso secolo breve, è il momento in cui le culture devono sedersi, discutere tra di loro e imparare. E questo è il messaggio, proprio perché non esiste un posto che sia di proprietà di qualcuno, il mondo è di tutti, la salute è di tutti, la salute umana e la salute del pianeta non sono due cose differenti. Le faccio l'ultima domanda, lei se l'aspettava tutta questa folla, qualcuno parla di 10.000 persone, comunque in transito, forse di più. Io per natura sono ottimista, ma a questo non credevo, penso che sia uno dei momenti più belli della mia vita in assoluto.